Ciao bambole, hola chichi, hola chichi, ciao Allora, vi volevo fare questo video insieme a un altro video però visto che tanto non riesco mai a farlo, ve lo faccio così, diretto perché se no è un botto e ve lo devo fare e non ve lo avevo mai fatto e quindi non è giusto Come l'avete visto lei, dal titolo è un giveaway per voi Questo giveaway è stato donato, donato, regalato dal sito su cui presi tutta la roba di Puro Bio, non so se vi ricordate Naturalmente vi lascio poi il nome del sito nel link e tutto quanto E lei è stata davvero carina, mi ha fatto dei prodotti, mi ha regalato della roba che è veramente bellissima Allora, io vi faccio vedere cosa è e poi stavo decidendo se fare più di una vincitrice Allora, veniamo a noi In primis c'è una matita della Puro Bio che è la numero, l'otto, no, 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 venti matita, occhi e labbra però non ha nome ed è questo nome qui, sì, buona, questo colore qui questo viola, anzi un fucsia non ve le posso swatchare ragazzi, quindi non posso farvele vedere oltre poi abbiamo della Nabla un Hydrating Shine Lip Gloss che è questo che dovrebbe essere però un gloss e non uno di quelli matte insomma, questo è un gloss fucsia e poi abbiamo la matita del Contour Contour Mania della Neve che adoro infatti ve la volevo scambiare con qualcosa mio nel senso, quando feci l'ordine poi dissi questo, però dissi no, vabbè Gina che da una parte c'ha quella chiara e da quest'altra parte c'ha lo scuro che secondo me è perfetto per fare il Nappone e poi il pennello di neve io non ho nessun pennello della Neve Cosmetics questo qui è da blush anzi, secondo me sia da blush che da Contouring ed è veramente bello il Blue Contour infatti veramente, veramente strafigo ora io stavo pensando di fare due vincitrici quindi una con il pennello e la matita e una con la matita da Contouring e il Lip Nabla quindi pensavo così voi non lo so che ne pensate perché una sola dare tutta questa roba a una persona sola mi sembrava poco insomma quindi dai facciamo due vincitrici naturalmente come sempre le regole sono quelle di tutti quindi commenti limitati poi io le scelgo con Suadeo con il sito non mi ricordo se è Suadeo o un altro comunque con quei siti lì e poi niente vi dirò la vincitrice allora i premi appunto sono due facciamo che vi do un mese di tempo non voglio fare di solito avete visto io li faccio mettere dei commenti particolari eccetera eccetera questa volta fate un tipo di normalissimo commenti limitati quello che volete e e niente basta penso vada vada bene così ok quindi naturalmente ringrazio Ramona mi sembra si chiamava la ragazza ma non sono sicura che va fatto questo regalo e chiedo scusa se ci ho messo così tanto però dicevo lo faccio lo faccio domani lo faccio domani e poi non l'ho mai fatto grande ami va bene spero che questi regalini vi piacciono poi ce n'è già un altro pronto con dei regali che vi ho fatto io quindi vi mando un bacione in bocca al lupo e fatele bravi spieppeggiate ciao mi ok